Chiusi i 27 atorifiuti, da oggi i vecchi carrozzoni non esistono più. Al loro posto sarebbero dovute subentrare 18 SRR, ma ad oggi sono 13 quelle nate e solo sulla carta. In attesa dunque che la riforma dei rifiuti decolli in maniera organica, l'assessorato regionale all'energia guidato da Nicolo Marino ha nominato 15 commissari straordinari che andranno a gestire sia le SRR e gli Aro, ambiti di raccolta ottimale, già costituiti ma non ancora operativi, sia gli ambiti in cui le SRR devono ancora nascere. Un commissario potrà quindi abbracciare più di una SRR. Con un'ordinanza il Presidente Crocetta ha dettato le procedure che superano definitivamente la gestione degli Ato. Le SRR sono enti di dimensioni più o meno provinciali in cui si consorzieranno i comuni ricadenti nelle nuove province che dovranno gestire il servizio e i relativi appalti per tutte le città e i paesi del territorio. I commissari rimarranno in carica non oltre il 15 gennaio dell'anno prossimo e gestiranno l'organizzazione aziendale degli Ato, procedendo ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle SRR o ai comuni organizzati in forma singola o associata secondo quanto previsto dalla riforma del 2010 varata da Pier Carmelo Russo e Raffaele Lombardo. In questo modo i commissari garantiranno la continuità del servizio avvalendosi della struttura organizzativa, dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati dai consorsi. Nel frattempo la fase liquidatoria degli Ato sarà gestita dalla Regione tramite l'assessorato al bilancio che nominerà dei sub-liquidatori.